Buonasera a tutti, ben ritrovati ad Astrologia e Cartomanzia. Ciao da Stefania, ciao da Tiziano e ciao da Paolo. Purtroppo non c'è il video e quindi non avete visto che oggi abbiamo un ospite speciale che è il barattolo di noccioline che abbiamo qui accanto a noi, quindi Tiziano gli ha passato il microfono. Vabbè, perché siamo sempre molto simpatici, quindi siamo a livelli proprio altissimi di simpatia. Allora, siamo di nuovo qui per questo appuntamento quindicinale con questa trasmissione e oggi anticipiamo già che parleremo, o meglio parliamo di tante cose perché poi vengono gli spunti dalle richieste che ci vengono fatte sia via mail che nei commenti, ma cominceremo con un argomento specifico che è quello dell'autismo e in generale dei ritardi mentali, specialmente nei bambini, perché partiremo proprio dalla mail di una nostra ascoltatrice, Elena, che ci ha sottoposto il caso, diciamo, di sua figlia e ci ha raccontato insomma tutto, alcuni, ecco vedo già alcuni che hanno scritto in chat, e ci ha raccontato la storia, insomma, l'esperienza che sta vivendo insieme a sua figlia. Quindi leggiamo prima la sua mail e poi faremo, grazie a questa mail, faremo anche delle riflessioni per quanto riguarda proprio la gestione di questo cosiddetto ritardo mentale, perché così viene chiamato, ma poi è soltanto anche questa una categoria spesso che viene messa dalla società. Allora, Elena dice, buongiorno Tiziano Paolo e Stefania, è da un po' che vi seguo e vi ringrazio profondamente per il lavoro di comunicazione che fate, avete cambiato il mio modo di vedere la realtà esterna ed interna. Allora, lei ci dà i dati, adesso Paolo si è allontanato proprio nel momento in cui dovevamo mettere i dati di Noemi, che è questa bambina di sette anni, tra l'altro fra pochi giorni compie sette anni, ed è la figlia di Elena. Allora, i dati sono primo agosto 2014, 19.37, quindi è un orario molto preciso anche perché appunto è nata pochi anni fa a Bolzano, Noemi, e mentre invece lei, chi ci scrive la madre, si chiama Elena. Allora, vi scrivo perché già la seconda volta che in quasi sette anni di vita della bimba, prima le maestre dell'asilo, poi le maestre della prima elementare, mi mandano dalla neuropsichiatra infantile. La prima volta mi dissero che la bambina non riusciva ad elaborare un pensiero lineare, che era ritardata rispetto di suoi compagni della stessa età, che non riusciva a riconoscere la differenza tra mattino, pomeriggio, sera e notte. Insomma, sembrava una specie di autismo grave, aggravato anche dal fatto che la bimba effettivamente ha avuto un grave ritardo nel linguaggio, cosa che, a parte il linguaggio che era tangibile, io non me ne sono mai accorta. L'ho sempre considerata una bambina normalissima. Infatti, sia dalle visite della neuropsichiatra che dalla logopedista non è emerso nulla di che. Abbiamo risolto il linguaggio anche in modo veloce ed ora ho dovuto fare altre due visite per un'ulteriore valutazione. Anche le maestre della scuola elementare mi hanno consigliata di portarla dall'equip di neuropsichiatria infantile. Perché ha atteggiamenti strani secondo loro? Comportamenti stereotipati? Quali? Due punti. Evita il contatto oculare, fa scorrere la mano sul termosifone, striscia o gattona per terra, gira attorno al banco, gira la sedia e si siede rivolta verso il fondo dell'aula, si dondola avanti e indietro, fa il cagnolino sotto il tavolo. Se un altro bambino disturba anche lei reagisce a sua volta con espressione divertita ballando, mette in scena delle coreografie schematiche eccetera eccetera. Adesso sto aspettando la valutazione dell'equip che però mi hanno già rassicurata che loro non hanno visto nulla di eclatante. La pagella infatti è bellissima, è uscita con una valutazione complessiva distinto, è intelligente, sensibile, attenta agli altri, sicuramente ha un carattere particolare, soffre molto la gelosia, è possessiva e questo la blocca nelle relazioni con gli altri bambini. È molto timida, dolce, sensibile, ha il cuore in mano, insomma un gioiellino e non vorrei che me la rovinassero. L'abbiamo ovviamente sgridata per questi atteggiamenti ed ora ho già notato un cambiamento in lei, la vedo più scorbutica o positiva. Questo sicuramente è il suo modo per difendersi, sicuramente è proprio una bambina non capita e questo è il punto fondamentale. Non vorrei che questo diventi un problema ancora più grosso e me la portino ad essere una disadattata. Poi mette anche i dati della famiglia, quindi i suoi, quelli del padre della bimba e della sorella, vi chiedo qualche consiglio per aiutarla ed aiutarci ad affrontare questi fraintendimenti. E quindi poi si firma. Elena, una mamma preoccupata. Io l'ho letta tutta questa mail perché mi sembrava importante, anche con dei dettagli che possono sembrare irrilevanti però per far capire il quadro della situazione. Allora, comincio io con il tema natale perché dal tema natale effettivamente non risulta nulla che sia un ritardo mentale o un problema particolare. I ritardi si vedono dal punto di vista astrologico, ci sono una serie di opposizioni molto gravi, una serie di posizioni astrologiche tipiche, ad esempio un mercurio cosiddetto bruciato, cioè congiunto strettamente al sole. No, non c'è nulla. C'è una cosa invece che caratterizza la maggior parte delle persone che sono considerate ritardate e cioè il fatto che è del segno del leone, che uno dice che c'entra. Perché il leone è il segno più fragile ed è il segno che, si vedo che anche Tiziano mi guarda stupito, ne abbiamo parlato spesso nelle trasmissioni con Mare Grazia, anche lei, risulta questa cosa. Perché? Perché il leone è molto socievole, vorrebbe sempre essere il primo per una sorta di insicurezza però interiore. Ha un comportamento molto sociale ma viene ferito molto facilmente. Infatti chi è del leone o chi ha la luna in leone spesso è molto suscettibile, si incazza facilmente se tu gli dici qualcosa che non va o se gli fai dell'ironia. Normalmente chi ha molte valenze leonine non ha per esempio il senso dell'autoironia. Quindi sicuramente c'è questa componente che si ritira in se stessa. Quindi mi fa venire in mente un passo della mail della mamma che ha detto l'ho sgridata e lei è diventata oppositiva. Questi bambini non vanno sgridati. In realtà bisognerebbe capire perché fa certe cose. Allora qui qual è la particolarità di questo tema? C'è una particolarità che coinvolge anche Tiziano, cioè il nodo lunare sud in terza casa, che è il nodo lunare che hanno persone particolarmente evolutei, che sono però in contatto con mondi superiori, che possono canalizzare qualcosa, che possono essere a contatto con mondi superiori. La mia idea da questo tema è che il fatto che per esempio andasse sotto i banchi, non mi ricordo che l'espressione ha usato la mamma. Comunque questi atteggiamenti strani vengano da qualcosa che lei recepisce dall'alto. Bisognerebbe chiederle, più che sgridarla, bisognerebbe chiedere perché fa così, cosa sente e spiegargli che è un comportamento che è considerato dagli altri strano e quindi bisognerebbe evitarlo. Ovviamente bisognerebbe poi dirgli, poi se lo vuoi fare lo fa in casa con noi e cerchiamo di capire perché, perché questa bambina probabilmente recepisce qualcosa che altri non recepiscono, si è appunto in contatto con questi mondi superiori. Il nodo lunare sud in terza casa, caratteristica, la terza casa è la casa della comunicazione, non a caso il nodo lunare sud indica problemi, casini delle volte in quel settore, perché? Perché sono problemi che la persona non riesce a gestire. Infatti spesso chi ha il nodo sud in terza casa è balbuziente, ha dei ritardi nel parlare, talvolta viene considerato un ritardato. Ma non è perché è un ritardato in realtà, è semplicemente che ha qualche problema nella comunicazione. Quindi bisogna imparare prima di tutto a comunicare con l'altro, cioè con questa bambina. E quindi mettersi in comunicazione e quindi non sgridandola, Elena scusa se lo dico francamente, anche se poi so che quando uno è genitore si fa presto, uno dice sì sì, tu fai presto a parlare da fuori, ma vieni, mettiti nei miei panni, no vabbè, questo lo sappiamo. Però bisognerebbe comunicare con lei allo stesso livello, cercare un livello di comunicazione e cercare appunto di farsi dire o di capire appunto che cosa lei sente per fare determinate queste cose. Aggiungiamo una cosa, che i ritardati, quelli con senato di ritardati o con problemi, sono persone normalmente che hanno talvolta delle capacità in più o delle capacità semplicemente diverse. Ricordo, mentre parliamo, che io da qualche insegnante ero considerato ritardato quando ero più piccolo, sembra strano. Infatti quando facevo il liceo, questa è una cosa che ho raccontato spesso, il giudizio di ammissione dell'ultimo anno di liceo, dell'esame di maturità, non è stato possibile, data la diversità di giudizi, dare un giudizio definitivo sul ragazzo, perché qualche docente mi considerava un ritardato e qualcuno mi considerava il ragazzo più intelligente che avesse conosciuto. Quindi quando si sono poi incontrati nel consiglio di classe, mi hanno raccontato che c'è stato un conflitto. Ora perché racconto questo? Non per raccontare di me stesso, ma per raccontare come capisco, anche se non l'ho vissuto in maniera così grave, questo tipo di situazione. Ma tante altre persone nella mia vita mi consideravano un ritardato, ricordo il maestro di Kung Fu, andavo a Kung Fu quando avevo 18-19 anni, mi consideravo un deficiente, un ritardato. Perché? Perché secondo lui non reagivo come le altre persone a determinate cose. Abbiamo il fratello di Stefania che è considerato ritardato, a Stefania 100%, al 90%, non mi ricordo. No, a una percentuale. Una percentuale alta, vabbè, forse 70%. comunque anche, insomma, è considerato a tutti gli effetti un ritardato. È stato sempre considerato così e quando lui si presenta agli altri, chiunque direbbe ok, è un ritardato da come parlano. Poi però che è successo? Ormai io e Stefania ci conosciamo da 15 anni circa, ora ho fatto il calcolo preciso. A forza di vedere questo fratello, insieme, un giorno ci siamo detti ma Stefano, ma che ha di ritardo tuo fratello che non dice una cosa fuori posto? Cioè non ha mai detto una cazzata, non ha mai detto una cosa sbagliata, non ha mai fatto un ragionamento illogico, assurdo. I genitori di Stefania talvolta fanno dei ragionamenti illogici, assurdi semplicemente perché non sono persone di cultura e quindi delle volte possono fare dei ragionamenti che ai nostri occhi possono sembrare illogici. Mio padre, anni fa, mio padre è laureato, stimato in certi ambienti, anni fa disse beh ma certo che gli indiani d'America sono stati massacrati, rifiutavano il progresso, qualche giorno fa gli dissi ma il 5G è molto pericoloso, tu pensa che quando ci sono degli insetti vicino al 5G muoiono, quindi spesso sotto alle antenne del 5G c'è una moria di insetti, tu trovi tutto un cordone di api, vespe, mosche, zanzare e quant'altro, tutte morte. Inoltre se lo metti vicino a un albero, l'albero muore. Quindi è un po' pericoloso e lui fa, beh ma il prezzo del progresso. Ecco, un discorso così il fratello di Stefania non l'ha mai fatto, fa sempre discorsi comunque equilibrati, quindi abbiamo capito in sostanza per farla breve e poi arriviamo alle conclusioni, che non è ritardato, ha un modo di agire, di comunicare diverso, ma per certi versi è molto più avanti di altri, tra l'altro ha una grande creatività, come tutti i ragazzi considerati autistici, ha infatti una grande creatività e dei settori dove in realtà addirittura eccelle. C'è anche in gran senso l'umorismo, che non è certamente una cosa da ritardati. Insomma, il ritardo è purtroppo una delle, dei marchi di infamia che da un po' di anni, e sempre di più tra l'altro, c'è in questi anni, sempre di più noi vediamo che ci sono questi marchi attribuiti a dei ragazzini iperattivi. Conosco molte persone che dicono, ma io se, ecco io può darsi che con i parametri di oggi, all'epoca sarei stato considerato ritardato, visto che alcuni professori mi consideravano tale. O mi avrebbero classificato come disturbo d'attenzione, sì, perché io effettivamente non riuscivo a stare attento, ma perché non riuscivo a stare attento? Perché io ritenevo in mani cazzate studiare delle cose che per me non avevano senso, cioè Dante Alighieri, per esempio, quando io studiavo la donna angelicata, cioè questi erano pure omosessuali e cantavano la donna angelicata, facevano tutte queste poesie, ma diciamo questi sono scemi, pensavo tra me e me, ma perché devo studiare queste cazzate? E quindi mi rifiutavo di studiare queste cose e non stavo attento in classe e quindi sarei stato classificato come un ragazzino comunque con disturbi d'attenzione. Oggi ho capito che semplicemente non era un disturbo d'attenzione, era che io intuivo, perché avevo un intuito superiore alla media delle persone, che quelle erano stronzate e quindi mi rifiutavo di studiarle. Oggi infatti ho fatto conferenze su Dante Alighieri e mi ricordo che venne la mia professoressa del liceo, una mia conferenza in cui parlai di Dante e ci abbracciamo e lei mi disse alcune cose, io gli dissi scusi professoressa ma lei è venuta qui, ma pensa che io stia delirando? No, no, sono cose giuste, disse, ok, dico ma se sono cose giuste, ma perché lei ci raccontava quelle cazzate sui fedeli d'amore? E lei mi rispose, Paolo quello era il programma, noi dovevamo attenerci a quello, non potevamo deviare da quello, altrimenti sarebbe successo un casino dal punto di vista dei rapporti col presi, eccetera. Ok, fine di questa grossa, ho raccontato di me, l'ho fatto già altre volte, quindi qualcuno avrà già sentito questo racconto, però perché secondo me è importante per inquadrare il fatto che questi bambini sono bambini speciali, che hanno doti speciali, che hanno un rapporto spesso con il mondo sovrasensibile diverso, quindi bisogna cercare di capire questa cosa di questa bambina. Tra l'altro questa bambina ha un bel plutone in capricorno, quindi avrà anche una bella forza di volontà. se ha questa bambina, si perché ho detto, scusa Stefania, non ho specificato, giustamente mi fa notare Stefania, non ho specificato, è plutone in capricorno ma in dodicesima casa, che gli dà una grandissima forza di volontà. Quindi se lei vorrà, quando ovviamente sarà educata a formarsi una volontà propria e a puntare a degli obiettivi propri, che non siano quelli della società, avrà la possibilità di realizzare le cose che lei vuole fare insomma. E in futuro molto probabilmente potrebbe diventare una veggente, una sensitiva o altro per una serie di cose che ci sono nel tema. Ovviamente non va massacrata di farmaci, di terapie, di psicologi, perché chiaramente una bambina che cosa fa? Si sente diversa e poi ripeto, in questo periodo storico si sentono quasi tutti diversi, perché io c'ho pure dei parenti, delle nipoti che vanno dallo psicologo, perché al minimo problema oggi si manda il ragazzino dallo psicologo, vabbè comunque. E il punto è che stanno venendo sempre più bambini speciali, con doni speciali, proprio a livello di nascite, perché stiamo andando verso un periodo sempre spiritualmente più repressivo e più limitante. Ed ecco che quindi è come se il cielo ci fosse dono di una serie di bambini che sono invece molto più fuori dagli schemi. Però bisogna stare attenti nella fase della crescita, nei primi anni, perché chiaramente possono rimanere traumatizzati dalle esperienze da essere bollati come ritardati o quant'altro. Ora questo è il quadro generale. Adesso vediamo che ci dice Tiziano. Allora, considera sicuramente dopo ti passerò di nuovo la parola, infatti ti chiederò di ricordare quell'episodio che mi sembra mi raccontasti tu, di una tua amica. Io intanto spero che mi sentano gli ascoltatori, perché tante volte ho un problema con questo microfono, quindi nel caso il volume fosse basso, per favore fatemelo sapere. Dicevo, c'è una tua amica che era considerata autistica e che poi andò in una foresta per suicidarsi e venne invece trovata da una tribù di sciamani che la accolsero dentro. Non so se era una storia di una tua amica. Poi magari la racconti. Dico al volo le due cose che ho rilevato dalle due letture che ho fatto mentre parlavate voi. Allora, la prima lettura che ho fatto era cercare di capire quanto effettivamente questa persona fosse affetta da questo tipo di problema. E devo dire che il primo giro fatto in proposito mi ha svelato che in realtà non è un problema quello che ha, è un modo diverso di funzionare. Il vero problema ce l'ha la società nostra che non è in grado di accogliere persone del genere. Non è un problema suo. Siamo in un certo senso noi impreparati a questo. La seconda lettura in realtà avverteva appunto sulla domanda che tu hai fatto, cioè come si può fare per aiutarla. Il consiglio che mi esce è che lei non ha tanto bisogno di stabilire una comunicazione diretta con voi in realtà. Lei si nutre di un altro tipo di comunicazione a cui noi non siamo affatto abituati. Io ti potrei definire come se fosse una sorta di comunicazione di tipo ambientale. Lei è molto influenzata dall'ambiente in cui va. Quindi se in quell'ambiente non ci sono energie buone, se ad esempio tu e il tuo compagno litigate e lei anche il giorno dopo viene in quell'ambiente sarà nervosa perché si accorgerà che c'è qualcosa che non va. Quindi in realtà bisogna prenderla molto più alla larga di come si prenderebbe una persona normale. Ma perché hai i sensi molto più amplificati, questo è il problema. Non è un qualcosa che hai in meno, semmai è un qualcosa che hai in più. Questa qualcosa in più ce l'ha così forte che spesso perde il contatto con la realtà al quale siamo abituati noi. Io qui ci vedo il senso del nodo lunare sud in terza casa. Deve infatti imparare a creare un ponte tra questo mondo e il mondo dove invece lei sguazza molto bene. Questo è quello che è emerso dalle letture. Adesso aggiungerò un'altra cosa che invece è relativa a delle letture recenti che ho fatto. In particolare i libri di Anthony Williams e Medical Medium che proprio Paolo ha consigliato in un'altra trasmissione radio, Border Nights, e che io i consigli sto seguendo da alcune settimane e la mia vita si sta letteralmente trasformando in meglio. Nei suoi libri si parla in modo specifico dell'autismo e lui stabilisce proprio una terapia che è possibile fare per, non dice guarire, ma sicuramente migliorare le condizioni di chi è affetto da queste patologie. Che lui imputa, la cui causa principale secondo lui è un eccesso di metalli pesanti all'interno del corpo. Quindi il modo migliore, ti ripeto, non per risolvere ma sicuramente per migliorare quella che è la condizione comunicativa è aiutare il suo organismo a liberarsi di questi metalli. In questo libro sono contenute anche le istruzioni su come fare. Quindi non so Paolo se vuoi raccontare quell'episodio di quella tua amica che a me rimase molto impressa proprio perché secondo me spiega benissimo qual è la condizione di certe persone. E chiudo anche dicendo che anch'io se venissi valutato oggi per come ero da piccolo con i criteri di oggi anch'io sicuramente sarei stato considerato un bambino affetto da deficit di attenzione perché ero estremamente vivace. Sì, allora il racconto di questa mia amica è un racconto molto particolare, sembra quasi un romanzo o una fiaba. Questa ragazzina, adesso è una donna chiaramente, ma fino a 15 anni non ha emesso una parola, quindi era una forma di autismo grave comunque. Non era semplicemente un po' di ritardo nel linguaggio o una stranezza nel comportamento, cioè proprio fino a 15 anni non aveva mai aperto bocca. Siccome era stata abbandonata dalla famiglia viveva con delle suore. A 15 anni uno psicologo la sbloccò, cominciò a parlare, certo non è che parlava normalmente, aveva sempre grossi difetti di comunicazione con il mondo. E che fece? A 18 anni si mise la parte dei soldi e fece un viaggio in Messico perché decise che si voleva suicidare, voleva morire e disse, siccome non ho il coraggio di farlo con un coltello, con il gas, con questi modi qua, vado in una foresta e mi perderò e quindi morirò. Andò in una foresta, si incamminò dentro questa foresta, effettivamente successe che si perse, a un certo punto quindi stremata dalle forze dopo qualche giorno che stava in questa foresta svenne. Si risvegliò e stava in una comunità di sciamani perché questi l'avano trovata, l'avano portata nella loro comunità e l'avevano accudita per un po' di giorni e l'adottarono. Stette circa, adesso non mi ricordo, forse una ventina d'anni con questi sciamani e imparò a comunicare con la mente. Divenne una maga, divenne una sciamana, era molto abile, ho visto i suoi poteri magici e soprattutto ho potuto verificare il tipo di connessione psica che riusciva a stabilire con le altre persone. Che cosa mi colpì? Mi ricordo che venne a casa mia perché mi chiamò e mi disse che voleva incontrarmi prima di ritornare in Messico e io la ospitai a casa mia, l'andai a prendere alla stazione, la portai a casa e lei disse prima di… tra l'altro aveva dei comportamenti un po' tipici dell'autistico perché entrò in casa e mi disse senti però io per stare tranquilla dovrei aprire tutti i cassetti e tutti gli armadi. Ha detto vabbè apri tutto, ha aperto tutti i cassetti anche nella biancheria, tutti gli armadi, devo guardare tutto, non so perché, perché si doveva tranquillizzare, quindi dei comportamenti un po' d'autistico ce la deva, però per raccontare il livello di connessione psichica che riusciva a instaurare, a un certo punto dice senti adesso prima però di parlare eccetera devo stare in meditazione, in camera, quindi sei chiusa in camera e sei messa a meditare e io stavo facendo cose mie e stavo facendo dei calcoli, stavo semplicemente facendo dei conti economici, delle mie finanze e dicevo cavolo però devo andare in quel posto, mi costerà in quel periodo proprio, questa fu una situazione economica disastrosa, proprio dovevo fare un viaggio fino a Napoli per fare una conferenza eccetera, dico ma devo spendere 100, 150 euro tra benzina e autostrada, è un po' un problema. Mentre stavo pensando questo, questa ragazza venne da me e mi disse senti le mie guide mi hanno detto che ti devo dare 100 euro e io per io non capì, pensai per l'ospitalità, ho detto no ma guarda che non mi devi dare nulla, insomma ti ospito volentieri e lei disse no no, non è che per l'ospitalità, proprio te li devo dare. Quello fu una delle prime cose che quindi mi colpirono, poi capitò due o tre giorni dopo, capitò che comunque stavo facendo un'altra cosa, mi servivano dei soldi per qualcos'altro, lei me lo lesse nella mente e mi dette anche quest'altra somma, tra l'altro la seconda volta era superiore mi pare che era a 200-300 euro, che io gli dissi scusa ma non è che ogni volta che penso che ho bisogno di soldi me li devi dare, funziona così, lei mi disse no no ma non è solo per queste due cose che sono importanti, poi quando vuoi e se vuoi me li ridarai. Ecco questi due episodi banali sono per capire il grado di connessione psichica che riusciva a instaurare, no racconto anche un terzo momento di questo rapporto, lì per lì quando vedi che entrai in casa che apriva tutti gli armati e tutte le cose, ho detto certo questa è un po' strana e mi senti un po' a disagio, devo dire, dentro di me ho detto ma forse ho sbagliato però a invitare una persona che non conosco a casa che commetteva una serie di stranezze ma poi non solo questa, ne commetteva tante altre insomma adesso muro senza enumerarle tutte insomma il comportamento suo era veramente molto particolare, però quando poi vedi che aveva questo potere psichico e si connetteva in questo modo, mi dissi vabbè è solo una persona diversa, non è una persona ritardata, strana sì, è strana chiaramente ma io mi trovo molto meglio con le persone strane e quindi ho detto no, questa persona mi piace e quindi mi sono sentito più rilassato, ecco quando ho fatto questo pensiero lei mi disse ecco adesso stai meglio con me, perché all'inizio non mi volevi, eri molto diffidente perché non ti aprivi, adesso sento che ti sei molto più rilassato e sei molto più aperto nei miei confronti. Ecco, questo è un esempio molto estremo chiaramente di persone che non sono ritardate, queste sono diverse e ovviamente in Italia infatti si trovava male perché in una società che non l'accoglieva, mentre invece in Messico tra gli sciamani era nel suo ambiente, infatti poi voleva tornare in Messico, spero che sia tornata in Messico, adesso non so, è da molto tempo che non la sento e non so più che fine ha fatto. Allora, mi riconnetto a quello che diceva Tiziano, cosa si può fare per aiutarla? Ecco, stabilire un livello di comunicazione su altri piani, prevalentemente mentale, prevalentemente energetico, ad esempio con bambini così, ecco sta dicendo Tiziano, pensieri di intenzioni, forse non l'avete sentito perché sta col microfono distante, pensieri di intenzioni, sì, è molto importante per esempio con i bambini così non far finta che vada tutto bene se uno è incazzato, è importante di guardare la mamma è nervosa, adesso cerco di calmarmi e veramente cercare di calmarsi per lei e cercare di mandargli comunque continuamente pensieri positivi insomma e circondarla da un'aura di positività che la stimoli a comunicare al meglio e che comunica anche quelle sensazioni che normalmente altrimenti lei non comunica, anche perché a quell'età normalmente pensano loro, se sono in connessione con mondi superiori, pensano che quello che loro percepiscono sia normale che lo percepiscono tutti e certi comportamenti che lei attua dice beh saranno normali, bisogna spiegargli che con alcuni estranei non bisogna comportarsi come uno si sente perché siamo in una società che non ci permette di essere noi stessi, però che in casa può esprimere tutto quello che può, ovviamente bisogna essere pronti anche a quelle che noi consideriamo stranezze, che non sono stranezze, fatevi venire il dubbio che invece questa bambina non è che è strana, ha delle doti in più rispetto agli altri, tra l'altro questi bambini quando vengono capiti e se stanno nell'ambiente giusto sono un dono per la famiglia perché spesso diventano molto giovani guide per la stessa famiglia, ti ricorderai Tiziano quella nostra amica comune che aveva quella bambina meravigliosa, dolcissima che a tre anni ti diceva anche cosa dovevi fare e cosa non dovevi fare, per esempio cose banali da bambino, però diceva no non andiamo al supermercato che non troviamo posto a parcheggiare e non si trovava posto a parcheggiare che a un certo punto abbiamo cominciato dagli retta perché le prime volte uno non ci credeva che una bambina potesse avere queste doti e dopo un po' siccome era stimolata a dare il meglio di se stessa e veniva creduta in un ambiente di adulti che gli davano retta e quindi dopo un po' diciamo sì avevamo capito che potevamo ascoltarla anche se era una bambina di soli tre anni, adesso è molto più grande e quando sono più adulti chiaramente possono diventare addirittura una guida per i loro genitori, sono una risorsa preziosa, sono un dono questi bambini però all'inizio chiaramente sono un po' difficili, sto pensando a The Big Bang Theory con Sheldon Cooper come personaggio che è un ragazzo autistico supergenio e sto pensando a Young Sheldon che è lo spin off di questo Big Bang Theory e di questo bambino particolare genialoide che però è strano, ha dei comportamenti strani ma è semplicemente che per certe cose è un genio e per altre cose non capisce il mondo delle persone normali, gli va spiegato ecco, ok alla parola dice Tiziano le noncioline no non lo so se tu Tiziano volevi aggiungere qualcos'altro oppure ok allora chiudiamo qui un abbraccio ovviamente a Elena e a Noemi no chiudiamo qui non la trasmissione chiudiamo qui per quanto riguarda questa, anzi no ecco volevo leggere questo breve commento di Marie che è un po' un riassunto di quello che abbiamo detto e Marie dice in effetti è una storpiatura culturale invece l'intelligenza abbraccia differenti sfumature e infatti è proprio questa la chiave anziché incasellarle invece queste sfumature fortunatamente diciamo che in questo caso nel caso di Elena e di Noemi diciamo che per certi versi sì ci sono state queste maestre che l'hanno subito etichettata in questo modo gli hanno detto di portarla dal neuropsichiatra ma fortunatamente questa equip di neuropsichiatri ha detto che non ha rilevato niente di strano quindi in questo caso diciamo che è stata anche fortunata a non finire in brutte mani perché molto spesso appunto questi bambini vengono rovinati anche con i farmaci non solo con queste etichette che gli vengono date parlando di ragazzini particolari che hanno avuto problemi con psicologi eccetera vogliamo ricordare la nostra amica Nandra senza dire il cognome ma chi è un ascoltatore attento forse lo potrà capire e potrà recuperare Elena puoi recuperare le trasmissioni che abbiamo fatto e farti un'idea di che cosa può succedere quando un bambino speciale viene coltivato nella sua specialità purtroppo nel caso di questa nostra amica all'inizio non era molto capita ma dopo ha avuto la fortuna di essere capita da alcuni, dalla madre però per anni ha avuto difficoltà a farsi capire nella sua specialità ma la sua storia è raccontata sia in un libro e sia in una trasmissione però non diciamo il cognome perché appunto non è Ah beh ma tanto il nome Nandra è talmente particolare che basta cercarlo e si trova poi chi segue per esempio qui c'è anche Andrea Santini che ha commentato lui penso che abbia capito immediatamente perché chi segue tutto quello che facciamo comprese le tue trasmissioni a Border Nights l'ha capito No, io non credo perché abbiamo intervistato ben quattro Nandra Nandra Rossi, Nandra Giorgetti Nandra Marrone come cognome e poi un'altra che non mi ricordo ancora insomma sono qua, non abbiamo detto il cognome Allora, adesso passiamo a Daniela Anche questa è una mail abbastanza lunga perché ci racconta un po' la sua esperienza spirituale e un momento, un periodo diciamo di forte crisi che sta vivendo adesso Allora, Daniela dice intanto dà i suoi dati sono nata il primo agosto 65 Ah, il primo agosto come la bambina che abbiamo appena trattato Sì, me ne sono accorta adesso non l'avevo notato ma invece me ne sono accorta adesso primo agosto 65 però Eh sì, ci sono queste chiamiamole coincidenze o sincronicità Allora, primo agosto 65 alle 20 a Forlì Le 20 probabilmente sarà un orario non tanto Anche l'ora 19.37 e 20 Ah, è vero dice Paolo anche l'ora è molto vicina perché la bambina è nata alle 19.37 e questa persona Daniela alle 20 No, a Forlì non è nata a Bolzano ma a Forlì Allora, Daniela dice Sin da adolescente ho una passione per la ricerca interiore iniziata con l'astrologia, i tarocchi, la psicologia e le filosofie orientali Nel corso del tempo ho praticato yoga varie tipologie di meditazione con esperienze di ritiri e seminari Centro Ananda, Osho, Buddismo, Quarta Via e in particolare negli ultimi dieci anni ho seguito assiduamente insieme al mio compagno un percorso esperienziale di Quarta Via in cui erano integrate altre discipline come la bioenergetica, tecniche sufi e meditazioni dinamiche Credevo molto in questo percorso perché corrispondeva al mio sentire di crescita evolutiva coinvolgendo diversi aspetti della totalità dell'essere con la possibilità settimanale di praticare con un gruppo di lavoro a Forlì con cui si erano anche instaurati rapporti amicali e l'opportunità mensile di fare seminari di approfondimento in un luogo immerso nel silenzio e nella natura si era realizzato anche il mio fondamentale desiderio di seguire un percorso evolutivo insieme al mio compagno con cui sono insieme dal 2003 e abbiamo sempre condiviso questa passione per la ricerca ma dopo una serie di dinamiche ambigue riguardanti il cosiddetto maestro abbiamo ambedue lasciato questo percorso che rappresentava per noi la realizzazione del nostro scopo di vita quindi si sono allontanati da questo percorso di quarta via io non mi sono ancora ripresa da questa bruciante delusione anche perché nel frattempo varie situazioni fondamentali nella mia vita sono crollate il lavoro, faccio la massaggiatrice e ho lavorato sempre a pieno ritmo per oltre 20 anni prima in un centro di terapie naturali, poi alle terme e negli ultimi anni ho tentato di mettermi in proprio collaborando con diversi professionisti in progetti che nonostante il mio impegno sono falliti e lei mette fra parentesi nodo sud in decima casa perché questa nostra ascoltatrice già comunque conosce l'astrologia l'ha detto che il suo percorso è iniziato un po' anche dall'astrologia e comunque è una nostra ascoltatrice anche delle trasmissioni con Maria Grazia eccetera quindi è una storica ascoltatrice comunque questi progetti lavorativi sono falliti nonostante l'impegno per cause di forza maggiore e infatti nodo sud in decima e in questi mesi sto elaborando a fatica il lutto di mia madre che per me è sempre stata una guida spirituale oltre che un sostegno affettivo in particolare sento un crollo energetico nonostante avessi già previsto questo momento fatidico e soprattutto nell'ultimo anno la situazione era diventata molto impegnativa e io insofferente da non riuscire a gestire le mie esplosioni di rabbia e negatività soprattutto sento che ho fallito perché non ho adempiuto con saggezza vista la mia conoscenza allo scopo del mio nodo nord in quarta casa e solo ora ho questa percezione lucidità mentre prima ero come in preda a un demone addirittura dice ora l'insofferenza e la rabbia si sono dissolte ma ora sento solo vuoto distacco e senso di straniamento negli ultimi tempi ho ripreso gli studi frequentando una scuola serale di liceo artistico e dal momento è il solo scopo che mi dà centratura e radicamento ma sento la mancanza di un gruppo di riferimento valido con cui proseguire il mio cammino evolutivo negli ultimi tempi almeno qui in zona c'è stata una desertificazione totale di luoghi e gruppi vabbè cerco un po' anche di tagliare alcune cose perché in effetti è un po' lunga allora l'anno scorso seguendo astrologia e spiritualità ho rinnovato il mio interesse per l'astrologia evolutiva e in questo periodo estivo mi sto dedicando ad approfondire i risvolti più esoterici ma mi sento molto isolata perché non trovo più un canale di espressione esterno che mi colleghi al mondo a parte lo studio vorrei poter fare un'azione costruttiva creativa ma mi sento come un fantasma che non ha più potere fattivo ed è invisibile quindi proprio ci sta descrivendo una crisi molto profonda anche la compagnia teatrale amatoriale di cui facevo parte si è sciolta mi sento esiliata nel deserto dei tartari credo che nel mio tema natale questa frustrazione blocco sia da evincere dallo stellium di pianeti in vergine in settima casa opposti a Saturno in pesci in prima casa adesso io non ho qui davanti il tema quindi adesso ce lo dirà poi Paolo ma mentre fino a poco fa sapevo cosa fare e come muovermi ora non vedo più nulla all'orizzonte in senso molto concreto vorrei uscire da questa inerzia ma non vedo come e cosa posso fare non perché non lo sappia ma perché non c'è il giusto terreno d'azione lei si chiama Daniela allora Daniela intanto complimenti perché hai seguito bene le trasmissioni se il nodo sud in decima casa l'ha riconosciuto esattamente come tra l'altro ce l'hai addirittura congiunto al medio cielo però vabbè a parte questo purtroppo sei in un periodo in cui astrologicamente era da attendersi una situazione di crisi e una situazione che dura da un po' e durerà ancora un po' questo perché visto che l'astrologia la conosci e ti parlo in termini tecnici subito hai un bel Plutone in dodicesima casa con Giove e Saturno anzi diciamo Saturno in dodicesima in transito e Giove in prima ora finché Saturno ti sta in dodicesima purtroppo sarà molto pesante il periodo è stato pesante è pesante da tempo e lo sarà ancora per un bel po' quindi ti devi preparare a questo però come tu sai la vita è ciclica quindi ci sono dei momenti in cui proprio astrologicamente arrivano delle batoste io tra l'altro tu sei del 65 quindi hai una configurazione simile alla mia che è la congiunzione di Plutone e Venere opposte a Saturno questa congiunzione ce l'ho anch'io anche se sull'asse 4-10 tu invece ce l'hai sull'asse 1-7 e ti provoca una serie di sobbalsi nella vita purtroppo ti fa ti fa avere momenti di grande intensità in positivo ma talvolta anche in negativo fra un po' poi Saturno arriverà anche in congiunzione a Saturno è opposto a quello stellium quindi arriverà ancora un periodo più duro però poi arriveranno momenti più sereni quindi fa parte diciamo del ciclo della vita e della tempistica di noi nati del 65 avere dei momenti di questo tipo a questo punto quindi bisogna capire che cosa fare cioè come attraversare al meglio un periodo che comunque sarà pesante è stato pesante e lo sarà ancora e qui vediamo che cosa ci può dire Tiziano Allora io ho aperto un giro tieni presente che la tua situazione è molto complessa quindi un giro solo non mi è sufficiente per darti i consigli migliori diciamo in maniera completa qui ci sono almeno tre elementi che io noto che sono degni di essere sottolineati in primo luogo il lutto di tua madre quello secondo me è un qualcosa che andrebbe lavorato in modo diretto c'è qualcosa secondo me che ancora ti tiene prigioniera ecco infatti secondo me è solo una parte del problema cioè è andata diciamo ad aggiungere benzina sul fuoco su qualcosa di preesistente per quanto riguarda il tuo passato io sono abbastanza sicuro che tu hai subito delle vere e proprie interferenze da parte di un'entità maligna che quindi ha alimentato in senso negativo l'intensità con cui hai vissuto tutto questo periodo ti sottolineo questa parte non perché sia un problema che tu hai attualmente ma facci caso perché potresti ritrovarti anche in futuro ad avere queste emozioni sgradevoli amplificate quindi se te ne accorgi credo che tu sia abbastanza preparata per trovare il modo di allontanarla un'entità del genere quindi non sottovalutare questo aspetto c'è poi un terzo elemento che secondo me se vuoi è quello principale però lo metterei a pari merito anche con il discorso del lutto di tua madre ed è una sorta di totale sfiducia nel si potrebbe dire quasi nell'universo come se tutti i tuoi sogni fossero stati traditi e quindi una parte di te si sente spiazzata e delusa da tutto questo ecco in realtà in un momento del genere devi fare proprio quella cosa che sembra più lontana dalla nostra intuizione cioè proprio riconnetterti in senso spirituale a questo momento e capire che questo momento è esattamente invece ciò che il destino vuole che tu affronti adesso quindi devi ribaltare come un guanto questo punto di vista devi ritrovare il senso dello spirituale nello yoga ci sono delle meditazioni apposite forse posso darti qualche chiave di lettura per fare una ricerca su internet prova a cercare qualche meditazione di Kundalini Yoga che abbia come mantra è chiamato Adi Mantra e ci sono appunto delle meditazioni che servono proprio a risintonizzare il proprio terzo occhio con il piano divino che credo che sia questo diciamo che più di tutti in questo momento ti sta tenendo lontana da te stessa soprattutto Eh sì tra l'altro tu hai parlato di entità e infatti lei a un certo punto dice proprio eh sì dice che adesso ha questa sorta diciamo di percezione lucidità ecco questo è il punto mentre prima ero come in preda un demone dice eri proprio in preda un demone da quello che vedo io quindi sì tra l'altro io su questo punto forse può essere utile anche agli altri ascoltatori ho scritto un articolo qualche anno fa sulle sulle entità e su come interagiscono con noi eh per trovarlo vi basterà scrivere su google il mio nome e cognome Tiziano Tummo lo seguido dalla parola i sette livelli di interferenza oppure talvolta forse anche la parola entità è sufficiente eh un articolo che si legge in dieci minuti credo che sia abbastanza esauriente per un'infarinatura generale dell'argomento poi la Stefania c'è nella mail l'anno in cui ha avuto il problema con il maestro perché sai Tiziano mi è venuta a me mentre la nostra mia e tua esperienza con il maestro è la stessa cosa sembrava di aver trovato l'illuminato e poi pensavo fosse amore invece era un calesse insomma come diceva il film alla fine è successo un casino abbiamo capito proprio di esserci cacciati un vero e proprio guaio altro che maestro è stato un disastro energetico da lì è venuto un parassitaggio un parassitaggio vero e proprio che ho avuto sia io che Tiziano ma tante altre persone che hanno frequentato questo genio di maestro geni anche noi che per la verità non avevamo fiutato la trappola però a parte questo mi è venuto in mente che questo parassitaggio poteva venire forse proprio dal maestro cioè quell'esperienza può avergli se è un maestro del tipo di quello che abbiamo incontrato noi quindi potrebbe venire da lì il parassitaggio di cui tu hai parlato sì è assolutamente plausibile certo non è da scartare a priori una tesi del genere comunque ecco non disperarti soprattutto riguardo al fatto che ti sei trovata nella posizione di dover scegliere di abbandonare un percorso in cui credevi questo è un punto a cui secondo me chi fa parte di un percorso prima o poi è sano che giunga e cioè rendersi conto che quello è uno strumento che serve a te non sei tu fatto per quello strumento è quello strumento che è fatto per te quindi non è secondo me utile da un certo momento in poi attaccarsi troppo al proprio percorso anch'esso va abbandonato per proseguire oltre ci sono delle storie zen che parlano di questo come ad esempio la storia in cui il monaco zen deve guardare il fiume e quindi prende una barca e una volta guardato il fiume però la barca la lascia lì perché portarsela dietro sarebbe un peso ecco il concetto è un po' questo tieni presente anche che gli errori in campo spirituale sono degli ottimi modi per insegnare ti insegna molto di più un errore del genere che dieci anni di corso con un maestro che sia completamente bianco ovviamente però dipende da te da come vivi queste sfide e da come riesci anche a superarle però ecco il potenziale in questi casi non è da trascurare però non è un qualcosa che si svela subito in genere io per esempio ci ho messo anni per trasformare in positivo quell'esperienza fortemente negativa con questo maestro di cui parlavamo prima diciamo che abbiamo trasformato in positivo questa esperienza solo adesso dopo un po' di anni quindi proprio di recente insomma siamo riusciti a trasformarla in positivo no siccome lei del 65 tra l'altro con passaggi planetari simili ai miei quindi ho pensato che potesse essere negli stessi anni la cosa comunque vabbè a parte questo allora lei comunque allora lei non ha detto quando è successa questa cosa del fatto che hanno abbandonato questo percorso diciamo dice genericamente negli ultimi anni cioè insomma è una cosa comunque recente però non dice esattamente quando ma tra l'altro lei allora siccome appunto è del primo agosto del 65 quindi anche lei dovrebbe avere il ritorno dei nodi adesso io chiedo a Paolo perché appunto non ho non sto guardando il tema però questo lo dico perché siccome Paolo ha avuto è perché perché tu hai avuto il ritorno dei nodi un paio di mesi fa e quindi anche lei dovrebbe essere più o meno a quel punto sì diciamo che il ritorno dei nodi ce l'abbiamo avuto entrambi più o meno tre o quattro mesi fa questa era la la tempistia quindi tre o quattro mesi fa è successo qualcosa a livello carmico e familiare di fondamentale non so però si ha indicato qualcosa allora io credo che sia proprio queste sue riflessioni che lei sta facendo questa profonda crisi spirituale che sta attraversando dato che i nodi lunari riguardano comunque qualcosa di carmico e in chi fa un un importante percorso spirituale riguardano molto spesso delle crisi spirituali sì e poi Daniela guarda bisogna fare pace o i conti con questo fatto che questa opposizione di Saturno a Plutone Urano provoca periodicamente dei blocchi nella vita non sarà la prima volta che ti è capitato di entrare in un periodo così nero e poi comunque se ne esce e talvolta se ne esce in modi anche molto potenti perché la stessa questa stessa opposizione che ci crea un sacco di casini certe volte in particolare congiunzioni quando ad esempio Saturno ti entrerà in se stile a se stesso e in trigono a Venere Urano e Plutone la tua vita ridecollerà ci vorrà un po' di tempo a occhio tre anni forse prima che arrivi però arriverà un momento così che ti sentirai energica la vita riprenderà ti sentirai che tutto va bene pure a gonfie vele addirittura ti sentirai ci saranno altri momenti così però perché ad esempio fra circa dunque un anno e mezzo ecco Giove ti andrà in se stile a Saturno e in trigono lo stellium che è in vergine a quel punto anche lì probabilmente sentirai un momento particolarmente positivo poi purtroppo Giove è più rapido quindi se ne andrà e rimarrà a Saturno però insomma in questi anni avrai comunque periodi duri ma avrai anche momenti sicuramente anche belli poi a un certo punto l'incubo svanirà quando Saturno si toglie proprio dalla prima casa ok allora non sono arrivate altre domande via mail ah intanto c'è sempre Marie che dice anche a me è successo due anni fa delusione totale penso che si riferisca anche lei a questa storia del maestro dice Mari Bariletta secondo me è il periodo molti maestri stanno subendo attacchi e ciaone ah 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 secondo me non voglio sembrare troppo sbruffone ma il problema è che tantissime persone si professano maestri ma in realtà sono poco più che istruttori in realtà di discipline quindi noi usiamo la parola maestro in modo improprio un maestro vero anche se gli mandi un attacco gli rimbalza però è vero anche che sono tempi duri per tutti sotto questo punto di vista questo senz'altro allora poi appunto come dicevo non ci sono altre domande che sono arrivate via mail e non ci sono neanche domande qui in chat le altre volte ce ne erano di più però questa volta invece non ce ne sono allora io intanto ricordo l'indirizzo email perché poi tra l'altro la volta scorsa mi sono accorta dopo che avevamo detto sì potete scriverci poi diamo l'indirizzo email però poi non l'abbiamo dato anche se comunque lo scriviamo sempre sia nella descrizione su youtube su facebook insomma questo indirizzo comunque si trova volendo però non l'abbiamo detto in diretta quindi l'indirizzo è drag trattino star chiocciola hotmail punto it e quindi a questo punto chiudiamo già qui la puntata se non ci sono altre richieste però è stata è stata più breve delle altre ma è stata molto intensa per gli argomenti che abbiamo trattato secondo me sì ricordiamo ah no beh già l'ha ricordato adesso scusa adesso è stata una giornata impegnativa adesso sono un po' cominciassi un po' stanco va bene l'ha ricordato Stefania quindi la nostra mail per chi vuole il tema natale o un consulto astrologico approfondito e noi quindi ci rivediamo anzi ci risentiamo fra 15 giorni per un'altra puntata sì volevo aggiungere che l'indirizzo email lo potete usare sia per le richieste qui in trasmissione e sia come anche ha detto Paolo per richieste i temi natali a Paolo e anche eventualmente per chi volesse contattare Tiziano lo potete in realtà anche contattare direttamente su Facebook perché lui lo trovate su Facebook Tiziano Tummolo però se volete comunque potete scrivere anche a noi e noi poi vi giriamo il suo contatto e quindi a questo punto sì salutiamoci sentiamo fra 15 giorni quindi il 4 dovrebbe essere 4 agosto e ciao a tutti un abbraccio ah un attimo prima di far salutare anche a Paolo e a Tiziano no volevo soltanto dire che il brano iniziale era Cosmic Energy di Chitaro perché non l'abbiamo detto e poi adesso il brano finale che metteremo è The Magic Lake il lago magico visto che siamo qui proprio davanti a questo meraviglioso lago magico e quindi ciao a tutti e un abbraccio ciao a tutti da Tiziano e ciao a tutti da Paolo